La coppa originale è in oro, 5,5 kg di oro 18 caratti. Viene sollevata la coppa originale, proprio quella vera che è stata fatta nel 1974, che gira proprio di mondiale in mondiale e passa. Poi alla squadra rimane una replica. Prima c'era il nonno che ha aperto la ditta storica negli anni 40 e si chiamava Bertoni. Nel 1995 mio papà ha ristrutturato l'azienda e l'ha spostata qui a Paderno, chiamandola GD e Licensei Bertoni. Poi mio papà è mancato e sono arrivata io. La mente è di un grandissimo artista e scultore, il signor Silvio Gazzaniga, che era ai tempi direttore artistico della Bertoni. Quando la FIFA nel 1970 ha fatto questo concorso per disegnare la nuova Coppa del Mondo, il nuovo trofeo, ha portato il modello e l'avete vinto. Abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Ma non ti è mai tornata indietro per avere qualche ritocco? Torna indietro. Il 2006 non ti è tornata chi ha vinto l'Italia, no? Eh, come no! Per essere ridorata, perché vengano sistemate le basi, viene a rifarsi il look. C'è gente che mi chiede se me ne vendi una e io non posso vendere. Vendi una? Una replica. Ma un sacco me lo chiede, io dico ma io non posso vendere. Allora poi mi dicono ma scusami, allora cosa te ne fai di tutte quelle che... Scusa, non è il tapiro, eh ragazzi. Scusa, non è il tapiro.